Ciao Ninetti, bentornati in una nuova live super ninosa, super 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 ninosa Ok, io nel frattempo che voi entriate Io poi mi immagino la gente che entra a vedere la live tanto tempo dopo E si trova tutti questi spostamenti all'inizio, ok Ciao Ninetti, ciao Franci, ciao Laura, ciao Ari Oh che bello, che bello, ci siete tutti Ciao Abigail Che bello avervi qui oggi, come ogni live, sì ovviamente, però oggi faremo cose troppo belle Come ogni live, sì ovviamente, però oggi faremo cose troppo belle insieme Ciao Croard, ciao Anna Grazie Anna, sto molto bene, grazie Non bisogna mai dirlo troppo forte, ma ok Più o meno stiamo così, ok Allora, io aspetto che entriate in live nel mentre che ovviamente iniziate ad entrare Ciao Marzia, inizio a farvi vedere il mio primo esperimento Perché come avrete letto dal titolo di questa live Attenta alla sua, Abigail, non mi dire Perché come avrete letto dal titolo di questa live Attenta alla sua, Abigail, non mi dire queste cose A non essere come Umberto, ti prego Ma Claudio, che è il mio papà? Ma secondo me è il mio papà? Cioè il mio papà è in live? Oh mamma Ciao Franci, grazie Allora, vi spiego Visto che, come avrete letto dal titolo Voglio provare a fare con voi la 3D Resin Art 3D Paint Resin Art Credo che il nome completo sia questo Comunque è una sorta di pittura tridimensionale all'interno della resina E ovviamente, vabbè, fate conto che è la prima volta che l'ho provato Quindi la mia prova non è che sia chissà quanto ok, mitica, no? Da poco ho rivisto il video dell'altra volta Ho problemi con la live, ogni tanto mi ripete le cose Eh, Cloart faceva così anche a me Quando guardo le live degli altri, ogni tanto me lo fa Credo capiti per cose di YouTube E praticamente consiste nel dipingere letteralmente sulla resina E su strati e strati diversi di resina Cioè fare uno strato di pittura, forme e colore Poi uno strato di resina, un altro strato di pittura E infatti, vedete Ah, anche a voi sta andando un po' malino così? Uh, ciao Giovanni E infatti, come vedete, per esempio Il pesciolino è più sotto della ninfea Ma il pesciolino stesso Questa è la mia prima prova Quindi lo so, fa un pochino schifo Il pesciolino stesso ha diversi strati E vedete, si crea questo gioco come se Fosse all'interno della resina Cioè che, come se fosse, non lo so, in fimo per esempio, no? E lo adoro, adoro tantissimo La prima prova e a voi è piaciuta tantissimo E quindi ho pensato di fare delle prove con voi in live Ciao Perla! Ah, Abigail Lo si può fare con la resina UV O con la normale resina? Io ho provato ieri a fare questo esperimento Con la resina UV Proprio perché così mi son detta Vediamo se va bene la resina UV Così potevo appunto farlo in live con voi Ma gli artisti che ho visto E che sono veramente degli artisti Fare, a cui ho visto fare questa Questa cosa, questa tecnica Usano la resina normale e possidica Quindi, penso che proverò anche con quella Poi, quando avrò del tempo Perché ovviamente calcolate che Se ogni strato ci mette 24 ore per asciugare Capite bene che il tempo è molto lungo Ciao Esther! Ciao Franco! Oh, che bello, che bello State arrivando tutti Io vi do ancora qualche minuto per arrivare Nel frattempo Oltre a pennellini dalle punte molto sottili Molto, molto sottili Ho preparato anche i colori Che penso, penso, dovrebbero servirmi Andrò a fare anche un po' d'arancione Con questi due E, ah, Bigel Ok, allora diciamo che ci siamo Perché il punto principale è che Se hai pensato fosse in Fimo È perché, ovviamente, lo vedi tridimensionale Invece è dipinto Ed è proprio quello il bello Soprattutto se, magari, si è un po' più bravi A dipingere Riesce a fare qualcosa di super realistico CloArts Non ne ho idea Perché non mi sono soffermata sui nomi Credimi Non mi sono veramente soffermata Però basta che cerchi su YouTube 3D Paint in Resin E la maggior parte degli artisti Perché penso che la tecnica sia nata per questo E credo sia nata o in Cina O in Giappone Non ho ben capito Realizza proprio pesciolini Carpecoi Pesce rossi I pesciolini quelli con la testa rossa E quindi ti basta cercare Con queste diciture più o meno Sì, sì, sono acrilici normali Sono dei normalissimi acrilici Della Ferrario Mi sa che sono questi No, della Vivace Che cos'è la Vivace? Stamperia Quindi sì Bene, bene Allora vi faccio vedere cos'altro mi sono preparata Oltre, ovviamente, alla prova Che volevo solo farvi vedere Io ieri mi sono fatta Con della normale resina Il primo strato di alcune basi L'unica cosa che però È diversa dal colare Una base normale E che noi creeremo Nel verso in cui poi utilizzeremo la resina Quindi, per esempio Quando scopriremo questa creazione Non la useremo al contrario Come ci è solito fare Ma la useremo dritta Così come la vediamo Perché ovviamente bisogna dipingere E non saprei come dipingere al contrario Di che casata di Harry Potter sei? Laura, non mi ricordo Non mi ricordo Credo Corvo Nero Ma Mi piacerebbe più Serpe Verde Tantissimo di più Comunque Allora, mi sono Insomma, mi sono fatta Un po' di basi Questa qui Mi piaceva la forma Non calcolate Se vedete che in alcuni punti La resina si è ritirata Quindi ci sono delle parti vuote Perché tanto verrà coperta D'altra resina UV Però La resina UV In questi stampi In forno Fa questa cosa Che è successa A questo stampo Vedete Si alza Si incurva E quindi ho provato A fare uno strato Di resina normale Che mi mantenesse Lo stampo fermo Sotto la Con la UV Quindi ok Mi sono fatta quelli Poi ho pensato Di dipingere Un bel pesciolino Anche nella nifea Che secondo me Ci sta troppo troppo bene Soprattutto perché È uno degli stampi Più alti che ho E poi ho fatto Ovviamente Non so quanti Riusciremo a farne oggi Io magari così lavoro Ho fatto questo qui Anche che è molto alto Grazie Marzia Ciao Giada E ho fatto questa qui Appunto perché è alta Quindi possiamo fare Molti strati Poi vedete Ne ho fatte Tantissime altre O meglio Preparate tantissime altre Ma Vediamo quelle Che riusciamo a fare Io inizierei da questa Perché mi ispira Tanto il fatto Di lavorarci su una base Allora Elena Vado ad utilizzare Per il momento L'arancione Che faremo con il giallo e il rosso Poi per la nifea Il verde Il giallo Il nero Per alcuni dettagli Del pesciolino Ma bisogna andare Tipo a strati Tra l'altro La cosa divertente E che io Di cui avevo timore È stato che Mi sono detta Ok vabbè Io ora lo faccio in live Ma non devo aspettare troppo tempo Invece no Perché sulla resina Di fili di acrilico Si asciugano Super velocemente Perché la resina Vi quando andate a mettere Sotto la lampada E rimane un po' calda E quindi vi riscalda Ancora meglio il colore Ciao Erika Hai preparato giusto Due stampi Si Ebbene si Abigail Proprio giusto Due 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 Allora Io direi di iniziare Il tuo pigmento preferito Il mermaid green Lo amo da morire Allora Iniziamo Vediamo un pochino Come prima cosa Voglio provare a fare Di nuovo La carpa coi Che è questa qui Vabbè lo sapete Io amo le carpe coi Tantissimo 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 Allora Iniziamo Ah ovviamente Mi sono preparata La resina UV UV creation Di resin pro Che andremo poi A mettere in un bicchierino Normalissimo In modo da Lasciare gli strati di resina Che saranno strati sottilissimi E ma io mi sono dimenticata Il bianco Aspettate Non ho messo il bianco Nella tavolozza Interessante Il colore che più mi serve Ok Il colore che più mi serviva Non l'avevo messo Nella tavolozza Perfetto Ok Ora possiamo iniziare Allora 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 Come prima cosa Andiamo a Utilizzare Il bianco Io cerco di farvi Un po' di zoom Perché voglio vedere Se riesco a farvi vedere Un po' bene tutto Allora Facciamo le pin Io nel frattempo leggo E non vi preoccupate So che in questa live Potrei essere più silenziosa Del solito Ma Lo sapete Meglio di me Che io quando mi concentro Tipo mi ammutolisco All'improvviso Aspettate che leggo Ai colori Ah che colori Stai usando Per adesso il bianco Comunque sono tutti acrilici Sono normalissimi acrilici Veramente normali Perché ho visto che Usano proprio Quegli stessi artisti Di cui vi ho parlato prima Usano proprio gli acrilici Ciao Simona Allora Facciamo prima Una parte di Pin Poi vediamo Allora Pensiamo alla forma Che dobbiamo dare Al nostro piccolo pesciolino E non dobbiamo Il primo strato Perlomeno Ho visto che Non va colorato La parte interna Del pesce Cioè tra l'altro Si stanno già asciugando Come le avvicinate Sulla resina Non so perché Ma come avvicinate Sulla resina Si asciugano Poi facciamo Altre pin Ciao Noveli Angie Ciao Nieves Ciao tesoro Ciao Rosinella Ok Poi Un'altra pinnetta Di qui E ne andiamo a fare Un altro Anche Dove lo facciamo L'altro Allora Secondo voi Di qui Ci facciamo le niffie E qui i pesciolini Oppure L'altro pesciolino Ce lo faccio Da questa parte Dove lo facciamo Consigliatemi Aiutatemi voi Mie cari ninetti E Laura Dipende da quello Che devi fare Ciao Miki-chan Dipende da quello Che devi fare Perché per una cosa Può andare bene La resina Vi Per l'altra Può andare meglio Molto meglio Magari La normale resina Giù a destra Quindi lo mettiamo qui L'altro Sì I croati Si asciugano Velocemente Però comunque Pensavo Che ci volesse Un pochino Di più Giù a destra In basso Invece Ok Ok Giù a destra Perfetto Invece La resina Di base La resina Di base È la resina Normale Perché Mi lascia Lo stampo Bello piatto Bello rigido Almeno all'inizio Quindi ho fatto Uno strato Proprio ieri sera L'ho fatto così Sarebbe stato asciutto Allora Facciamolo al contrario Quindi che nuota In questo verso L'altro Quindi facciamo le pinne Per così E poi andremo Comunque a lavorare Con la resina Invece La uv Solo che nuota Al contrario Sì Lui nuota Al contrario Sta inseguendo L'altro Ciao Valeria Ok Quindi Aggiungiamo Pinettosita A questo pesce Spero che questa Diventi Una Una live Più Come posso dire Più divertente O diversa Di tante altre Che avremmo potuto fare Perché Avrei voluto fare Le creazioni di resina Oggi Però Volevo troppo 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 provare A fare questi esperimenti Con voi Quindi spero Vi piaccia Poi magari Se volete La prossima settimana Invece che fare Così in fimo Facciamo Qualcosa appunto Con la resina Bravo Franco Che saluti tutti Bravo bravo Ok Ok Questa sarà la sagoma Dell'altro pesciolino Adesso Prima cosa da fare E fare Un piccolo E veloce strato Marzia Grazie Almeno su questa tecnica Non credo di esserlo Ancora abbastanza Però grazie Allora Su questo strato Di colore Adesso Andiamo subito A mettere un pochino Di resina UV Quindi la vado a mettere Nel bicchiere Ciao Eles Vado a metterla Un po' nel bicchiere Così Sarà più facile Oh cavolo Quanti strati Ha questo Tappo di Nuova resina Non me lo ricordavo Così bene Aspettate che apro Una resina nuova E tra l'altro Quella che ho usato ieri Ha il barattolo Tutto appiccicoso E quindi Per non far danni Con voi in live Ho preferito Fra altro Hai mai pensato Di fare l'effetto Petridish Sì Laura Però ne vedo Così tanto Che Che preferisco Fare altro Per adesso Ok Allora Nel bicchiere Ne ho messo Già un po' Di resina UV E adesso Dobbiamo andare A mettere Qui dentro Uno strato Lieve 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 Super Super Sottile Di resina Ma proprio Non sottile Di più Molto di più Ok Siamo pronti Ho sempre paure Di queste cose Perché lo strato Deve essere Sottilissimo Allora Proviamo Ok Perfetto Primo strato Di resina E lo dobbiamo Far scendere E colare Per bene Per bene Su tutta 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 la base Grazie Miki Gianni Mi fa piacere Ve lo dico Sempre Anche a me Piace Che create Guardando le live Perché mi sembra Come di creare Insieme Praticamente È super Bello Noto Noto Che la Notifica Della live Non è arrivata A tutti Oggi Perché Mi stanno Nel frattempo Arrivando Notifiche In cui Mi chiedete Nina Non sei in live Nina Ma la live Perché Non vi ricordate Il giorno Della live Che poi Mi lasciate Da sola Un po' D'acqua Tanto la resina E come la plastica Tipo liscia Quindi con qualcosa Di umito La togli Nel caso Insisti Con qualcosa Di appuntito Tipo Lo stuzzicadenti Ah Intendevate Il colore Ok Bisogna Star qui A far colare La resina Potrebbe essere Una cosa Noiosa Ma A questo Aggiungeremo Una canzone Di sottofondo Meglio di no Se la canto io Forse meglio di no Comunque Cristian Ringrazia Per tutti I bellissimi Commenti Che gli avete Lasciato Per la live In cui creava Lui con la resina Si è sentito Un grande artista Ok Vediamo Un po' Possiamo Farcela Possiamo Farcela Dai resina Su Dubito Che i miei Ninetti Vogliono Stare qui A guardare Tu che coli Beh Forse Forse Avete Non è proprio La cosa migliore Da fare In live Quando Le persone Vogliono Vederti Creare Piuttosto Che colare La resina Però Ok Diciamo Che Per amore Ninoso Si fa Questo Ed altro Si si Gli faccio Creare Qualcosa Abbiamo detto Che Non mi ricordo Chi di voi L'aveva detto Ma ho qualcosa Forse L'avevi detto Tu Non mi ricordo Ho qualcosa A tema Halloween O qualcosa Invece Che avrei fatto Io Quindi Non lo so Una fatica Qualcosa del genere Ma Credo che sia Più orientato Per qualcosa A tema Halloween Ok Perfetto Allora Vado 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 a mettere Questo strato Di resino V Sotto La lampada V E nel frattempo Iniziamo subito Un altro Vabbè Tanto la resina V si asciuga Veramente in pochi secondi Iniziamone un altro Dove lo facciamo L'altro Io direi Di andare Su questa base Qui Secondo me In queste Avremo dei problemi Nel senso Che sono Tanto Tanto Basse Però Proviamoci Proviamoci Proviamo a fare Altri tipi di pesciolini Tra l'altro Ma deve fare Un nuovo video Ok Siete malo Me l'avevo detto io Ok Allora mi ricordavo Che è stata tu Sì Sì Farà assolutamente Un altro video Promesso Allora Dobbiamo Devo anzi Fare Un pochino Di arancione Che mi serve Assolutamente L'arancione Per il pesciolino Rosso Ok Perfetto Spero Spero Tantissimo Fai una medusa Una medusa Ah qui dentro Oddio Ragazzi Fatemi imparare Prima a fare i pesciolini Che sono una cosa Più semplice Da dipingere Di una medusa Però sì Colori caldi O freddi Ma Per adesso Ma Oddio Aspettate Che sta accadendo tutto Ok Un attimo Che ho il fogliettino Con la foto Dei pesciolini Qua davanti Allora Ci siamo Ciao Laura Che bello Averti Dicevo Voglio fare un altro Pesciolino Di cui ho visto Una foto Proprio Di un pesce vero Ed è un pesciolino Rosso Che sembra avere Le sue pinne dietro Sembrano quasi ali Di farfalla Cioè È una cosa bellissima Quel pesciolino Però Ho notato Che questi pesciolini Si muovono in branco O meglio In gruppi numerosi Quindi Fai delle conchiglie Anche Quindi Voglio provare a farne Non dico Tanti Tanti Ma Più o meno Tutti Insieme Ora Provo a disegnare Il Come si dice Il Profilo Di questo pesciolino Vediamo chi di voi Lo conosce Anzi Se qualcuno Sa dirmi Il nome di questa specie O ancora meglio Allora Mi piacciono però Da morire Veramente Da morire Le pinne Che ha Sono troppo Troppo belle Veramente Troppo Troppo belle E poi Ha tipo Il panciotto Enorme Questo tipo Di pesce Ok Poi la pinnetta Di qui Quella di lì E qui c'ha Il suo mega Panciottone Che è troppo Troppo bello Io adoro Il suo panciottone E poi dovremo Anche dipingere Le scaglie Che ho visto Dipingere Dai grandi artisti Vengono tipo Troppo bello Pesce combattente No Non è il pesce combattente I combattenti Sono bellissimi Però non sono quelli Ciao Lady Dragon Sai fare gli occhi dolci Gli occhi dolci Che senso Quelli già disegnati Stile manga Intendi Però anche per questa tecnica Direi Ciao Ciao Vista Vabbè Ormai Esther Diciamo che La vista è andata A farsi benedire Da sola Proprio Da tempo Quindi Ok Allora Direi Di fargli ancora Un pochino Il panciotto E iniziare A dipingere il panciotto Aggiungendo un po' di rosso Perché su questa tecnica Dovete immaginare Almeno per quello Sempre Prendete con le pinze Quello che dico Perché lo sapete La sto testando Proprio Da pochissimo Dovete immaginare Sia I colori E sia il fatto Che la parte Che sta più sotto Nell'acqua È più in ombra Quindi Se il panciotto Sta più sotto Deve essere Ovviamente Più scuro E quindi Andiamolo a fare subito Più scuro Ecco qua Anche se volete Che un dettaglio Della pinna Sembri Essere più sott'acqua Fatelo più scuro Cianina Era rosario Dedicato a una mia amica Oh Sherry Mi dispiace Sei Yamangupis Oh Grazie Nieves Grazie La forma L'ho capita Del pesciadino Ma non mi viene il nome E come detto Nieves Potrebbero essere Gupies Non so se in italiano Hanno un nome Differente Però potrebbero essere Allora Vado a fare Un po' di rosso Anche da queste parti Così sembrerà Avere anche Delle pinne Più giù Però ragazzi L'effetto Una volta finito È qualcosa di Mio dio Io Veramente Vi giuro Lo amo Da morire Poi un po' di giallo Ok E adesso Questa volta Visto che il pesciolino Di base Non è bianco Lo coloriamo Con rosso Giallo E arancione Piano 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 Vengono belle Queste tecniche Anche con i colori Per il vetro Secondo me Tu che stai usando Io sto usando Gli acrilici Quelle per il vetro Non lo so Sinceramente Soprattutto perché Non ricordo In quanto tempo Asciugano Oh la forma Mi piace tantissimo Tanto tanto Sì Erika Viene al contrario Infatti come dicevo Inizio live Sono delle basi Che poi andranno Utilizzate per così Cioè dovranno essere piatte E usate in questo verso Non al contrario Le va il mio fratello Ma con due gatti Ah è vero Ma sapete che è il pesciolino Di Pinocchio E' proprio quel pesce Se non mi sbaglio E' proprio lui Una persona ordinata Disordinata Giada Disordinatissima Però nel mio disordine Trovo il mio ordine Allora Ne facciamo un altro Di questo Sempre Visto che si spostano In branco In gruppo Ciao Luisa Direi di farne un altro Ne facciamo Dove lo metto l'altro Consigliatemi voi Dove lo metto Qua cosa c'è Una Piccola Cosa di resina Ditemi voi Perché così Vengono delle cose Solo nostre Ed è bellissimo Dove lo mettiamo Ciao Eleonora Sotto Allora Franco Dice sotto Quindi Ciao Luisa Stiamo provando La resina Della 3D Paint La resina La tecnica Della 3D Paint Nella resina Vabbè Ok Sì un altro Sì tanti pesciolini Nel mondo ninoso Tanti pesciolini Troppe varietà di pesci E' vero Io al momento Devo essere sincera Sono un po' ignorante In materia Perché conosco Solo il pesce Che vado a mangiare Al sushi Che ho detto Adesso In queste circostanze Può essere una cosa Veramente cattiva Però vi giuro di no In basso a sinistra Ok Dite da questo lato Ok Allora facciamolo Invece di farlo Più qui Facciamo questa volta Più centrale Proviamo a farlo Anche questo Dio mi è venuto enorme Questo Questa volta Allora Qui il panciotto Ok E facciamo Le pinnette Voi dovete Quando finisce Questa live Andate a cercare Su youtube Questa tecnica E guardate La bellezza La perfezione Degli artisti Che fanno Grazie Laura Degli artisti Che fanno Questa Che proprio Sono maestri Di quest'arte Perché Cioè E' assurdo Guardare Come sembrino Alla fine Pesci veri Oltre al fatto Che li dipingono In grande E quindi Sono belli Diventano Sembrano veramente Dei pesci veri Perché sono Dimensione reale Un acquario grande Oh che bello Nieves Essere bellissimo Vero un acquario Vedere tutti i pesci Allora Questi hanno Sono venute Con delle pinne Un po' diverse Però comunque Dicevo Con gli artisti Sono Cioè Non lo so Secondo me Non sono umani Perché Creano cose Troppo Troppo belle Ma veramente Troppo Troppo belle Ok Anche qui Vado con Un po' di rosso Tanto nel frattempo Si asciuga La resina Sotto Spero che si veda Tra l'altro Io Li vedo Da un po' di tempo E sono stupendi Sto usando Gli acrilici Luisa Ma se li fai Di colori diversi Sto cercando Di fare Diverse tipologie Di pesciolini Per provare Perlomeno Quelli Di cui conosco Meglio la forma Soprattutto Mi sono fatto Un mini disegnino Di questi pesci Che avevo visto In foto Poi ovviamente Cercheremo Se l'idea vi piace Cercherò di fare Diverse tipologie Di pesciolini Anche Di pesciolini Poi farò Le meduse Le stelle marine Tutto quello Che mi chiederete Lo faremo insieme Promesso Si vede benissimo Che meglio Meglio Ho visto uno Che sembrava Avesse un polipo Nel cassetto Oh si Le di dragon L'ho visto quello Perché tra l'altro Quello è stato geniale Perché non solo Ha fatto con la 3D Resin art Il polipo Ma poi ha fatto Tipo in fimo Pasta polimerica La testa del polipo Che usciva davvero Cioè Quello è geniale Veramente Sono dei geni Di questa arte Di questa tecnica Che sono Dei maestri assordi Allora Vado a fare Un piccolo Ma proprio Piccolo Strato di resina Qui dentro E dico piccolo Perché Questa base E tu Piccolo Velo malefico Ok Perché questa base È molto Sottile Cioè già con uno strato Di resina Comunque il colore Non lo so Fa un effetto Particolare Allora Però dovremmo Credo trovare qualcosa Per stenderlo Per stenderlo prima Tranquilla Laura Ok Meno male Non sono felice Che si veda bene Perché Perlomeno Potrebbe essere Una live Non troppo interessante Non lo so Per chi Appunto Gli piace Però ci tengo Tengo tantissimo Però Sacrificeremo Sacrificeremo Un pennello Per amor Di Tutto Cioè di Pazienza Pazienza Anzi Per stendere Meglio la resina Ma che pennello Possiamo usare Uno di questi Ok Andiamo così Perché sennò Ci mette troppo tempo A colare Anche se Farla colare Sarebbe la cosa Più adatta Ciao Manual Creation Infatti ho visto Che proprio Loro la fanno Colare Anche se Velocizzano Il loro video Semplice È così Però Guardate come La resina Comunque sopra L'acrilico Rende già tutto Più Più vivo Ecco Sapete che ci vorrebbe Il pennello Degli smalti Devo Per la prossima volta Mi procuro Uno smalto vecchio Magari Pulisco per bene Il pennello Nell'acetone E Lo uso Per fare questa cosa Che quello Mi sa Secondo me Stende Molto 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 Meglio Però Abbiamo messo Poca resina Mi sa C'era un modo Per pulire Il pennello Credo Nel video Di Freaking Porium Il pennello Di resina Oddio Non lo so Devo andare a vedere Vabbè Sicuramente Poi mi ci metterò A lavarlo Tipo sotto l'acqua Per tre ore Però io Ho la pasta Lavamani Che dovrebbe E che Potrebbe rovinare Un po' Il pennello Però Quella lava Sicuramente Anche via La resina Tra l'altro La pasta Lavamani Se ancora Non l'avete Creata Con la resina Ve la consiglio Perché nel caso In cui La resina Dovesse andare A contatto Con la pelle Insomma Dovesse andare Con la pelle Con Lavamani Riuscite a toglierla All'istante Perché è Molto Molto Buono No no Il pennello Questo qui Che sto usando Adesso È un pennello Normalissimo Della stamperia Tra l'altro Con un Pennellino Piccolo Piccolo Super Super Utile Comunque Si è un po' Più veloce Col pennello Perlomeno Almeno Così Ce la facciamo Essere un po' Più veloci Ok Allora Questo è il primo strato Ora Prima di metterlo Nella UV Io direi Di Aspettare Due secondi Che si assesti Un po' Tutta la resina Ciao Laura Ciao tesoro Mio bello Io uso Quello in silicone Proverò Poi anche Con quelli in silicone Allora Per stendere La resina Che sicuramente Da lì si toglie Giustamente Grazie Camilla Ok Andiamo a metterla Nella lampada UV Sto perdendo La voce Che bello E prendiamo Quella di prima Allora Ecco Vedete che Lo stampo Si alza Non lo so Perché è la UV Che tende a far Alzare lo stampo Questa qui È totalmente asciutta Ti piace Il lilla Si Tutte le sfumature Tra il rosa E il viola Mi piacciono tantissimo Allora Questo qui Il pesciolino Che abbiamo disegnato Prima Anche insieme a questo Allora Ok Adesso Devo lavorare Con Bianco Giallo E iniziare Con l'arancione Quindi Proviamo Intanto Bisogna Ora Colorare Tutto il pesce Quindi vedete Andiamo a colorare Su un altro Strato di resina Vediamo 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 Cioè Se vengono bene In live Con voi Siete sicuramente Il mio portafortuna E poi La cosa più bella Che vi consiglio Se provate Se provate questa tecnica Che vi consiglio Di fare E aggiungere Tanti fili Che poi vanno A formare Delle pinne Per ogni strato Perché È troppo bello L'effetto finale Sembra Di una sirena Tipo magica Veramente Troppo troppo bello Oddio Anch'io con la febbre Oh Tutti con la febbre Ma insomma Non si sta con la febbre Sono sicura Che tanto mi infettate Che inizio video Mi avete chiesto Nina come stai Io ho detto bene E basta Fu così Nina Si svegliò Con la febbre Il giorno dopo Bene Ok Andiamo a fare anche Il passolino di qua Lo coloriamo Totalmente Con il bianco Che bello Che gli acrilici Si asciugano Così velocemente E con la combo Resino V È spettacolare La cosa Perché Certo È velocissimo Allora Questa è la base Del corpo Perché questi Sono i cui E quindi Ci serve una base Di colore Sul bianco Ma stasera Tuo marito Umberto Non c'è No Mio marito Umberto Non c'è Perché Umberto Doveva andare Al cinema A vedere Il film Se ho capito Bene Di Lady Gaga Correggetemi Se sbaglio Infatti Gli ho detto Oh ma ci sei Nella live Stasera No C'è la cosa Di Lady Gaga Al cinema Devo andare Ok Cattivissimo Mi ha tradito Tipo così Con Lady Gaga Bene Io con la febbre Trappure tu Oh mio dio Ma basta Tutti con la febbre Ma perché E ma no Se no poi Mi sento in colpa Perché ti ho chiesto Come stai Ma no Anna Tranquilla Tanto giro già In mezzo a gente Con la febbre Già da qualche giorno Quindi se deve venirmi È perché mi hanno infettato L'ore in realtà Allora La prima Prima parte Con il bianco Ora Prima di andare a fare Però l'altro strato Andiamo con l'arancione Poco 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 Nella parte Al centro E anche sotto Per creare quindi Un livello di Chiamiamola ombra Proprio alla buona Perché io non so usare Termini migliori di questi Quindi ok Anche sulle pin Un pochino di arancione E lo sfumiamo Con il giallo Quello sono curiosa Anche io Punisci La Nina Lo punirò Lo punirò Per tutti voi Che è cattivissimo Che mi ha tradito È andata al cinema Invece di guardarsi La live stasera E stare con noi Lo punirò Dicendo Nella prossima volta Che deve fare la live No non ci sono Poi magari Ma la vedo Lo stesso in segreto Tipo No non ci sono In live Ok Allora un po' di giallo Anche sull'altra Sfumiamo col giallo Qui Ok direi che qua basta E andiamo Sull'altro pesciolino E gli facciamo Anche qui La parte sotto Arancione Io sto Con questo piattino Dei colori Troppo troppo Storto Tra l'altro Ho anche il singhiozzo Cioè ok Nina va bene Pure il singhiozzo Oggi ok Comunque come vi sta Sembrando Questa cosa Fatta in live Non lo so Mi sta piacendo Guardare Questa cosa O mi annoia Giusto per regolarmi Nelle prossime live Umberto e Nina Ti punirà Dillo Giada Dillo Di nuovo Sulle pinne Un po' di giallo Oh no Troppo giallo Troppo giallo Sfuma 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 Perfetto Ma guarda Come viene bene Il pesciolino Grazie Ok 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 Perfetto Mi fa Tanto tanto Ma proprio Tanto 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 piacere Avevo Avevo Quello senso Di crescita Interiore Panico Panico interiore Quando vedo Un tema Prodotto Da tutti Perché ovviamente Siamo ad Halloween Siamo a Halloween Se non facciamo le streghe Adesso non le facciamo più E avevo bisogno Di provare cose nuove Cose diverse Cose che però Non aveva provato Nessuno In questo ambito Per sentirmi un attimo Di nuovo attiva Non so se il discorso Vi quadra Vi Abbia senso Se questo discorso Abbia senso per voi Però Provate Realmente Provate a A pensarla Sotto quest'ottica Quando vi sentite Un po' Non lo so Un po' Ecco Prima per esempio La ragazza mia Che a Stonina Farei anche tu La Petridish Io la farei anche Perché so che vi piace So che può essere Tanto interessante Lo dissi anche In un video Non so se vi ricordate Che poteva appunto Essere molto molto interessante La Petridish Però Non Non voglio Più veramente Tanto 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 Essere stereotipata Su Una determinata cosa Che va magari di moda In quel momento Perché ti fa sentire Veramente Vi giuro Vi fa sentire Bloccati Grazie Laura Sì Laura Laura De Leo Sì mi piace disegnare E Laura Fanari Grazie Ecco Abigail Sì so che voi mi capite Comunque questo È l'altro strato Adesso Ci mettiamo di nuovo La resina Ok Un pochino Un po' di più Forse Wow Non troppo E un altro po' Da questo lato Ok Basta E Ops Scusatemi Vi ho spostato Vi ho spostato Tantissimo Si capita Che a me Quando sei sempre Sulle stesse cose Le fai un po' In automatico Esatto Infatti Io mi stavo rendendo conto Scusatemi se parliamo Di altre cose Nel frattempo Magari può essere Un po' più interessante Mentre stendo la resina Infatti Mi sono resa conto Pesci veri Ciao Marina Stiamo dipingendo Pesciolini della resina Nel vero senso della parola Mi sono resa conto Qualche periodo fa Mentre creavo La mia ennesima sirenina Che mi piace Mi rende felice Mi fa sentire Me stessa Farle Però a un certo punto Ti dici Ma Forse posso dare di più Ma forse La mia testa Può pensare Qualcos'altro E allora Lì ti blocchi Lì viene il classico E amatissimo Da tutti noi Amato Amato Grande amico D'infanzia Blocco creativo Quello che Ma sapete che forse Abbiamo messo Troppa resina Eh sì Eh sì Aspettate eh Che devo provare a farne Far colare fuori Dallo stampo Un po' di resina Ok 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 Ne avevo messa troppa E se mettete troppa resina Con questa tecnica Non vi vengono bene gli strati Cioè vi sembra Ve ne accorgete Perché io all'ultimo Di quella che vi ho fatto vedere Inizio live Avevo fatto troppa resina E non ho potuto fare uno strato Perché sembrava Tipo due pesci Uno sopra l'altro Ok può essere carino Ma non è quello che vogliamo Ok mettiamo questo Sotto la lampada UV Mentre Intanto questo pennello Devo dividermelo dall'altro Mentre andiamo a prendere Quell'altro che sta nella lampada Ok Allora Ecco qua I pesciolini di prima Mamma mia Questi qua mi piacciono un sacco Come stanno venendo Sono troppo belle Quante lauree siamo E siete tante lauree Il pennello Cosa lo volisci Eh cloart Per adesso lo sto un attimo Mettendo nella salviettina Però Poi lo andrò a lavare per bene Penso con la pasta Lavamani Tante Laura Tante 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 lauree Ok Allora Andiamo di nuovo Con l'arancione Adesso Sempre sulla parte della testa E del corpo Anche con un po' di giallo Perché dobbiamo iniziare Ad aggiungere luce Quindi colori essenzialmente Più chiari Infatti adesso Sfumiamo il giallo Al rosso Ok No Guardate chi è arrivato Sì Camilla Li scopriremo In questa live Guardate chi è arrivato Ma ragazzi Ecco Vedo che fra un po' Entra il cinema Basta Umbi Basta Stavamo proprio dicendo Che ti odiamo tutti Perché mi hai tradito Per andare al cinema Tranquilla Marina Tanto penso che staremo In live ancora Per un bel po' Basta Ragazzi Diteglielo tutti Che siete arrabbiati Con lui Diteglielo Non fate la parte Ora di quelli che Che li vogliono bene Dovete essere tutti Tutti arrabbiati Con Umberto Basta E di Gaga Mi aspetta Vai vai Facci sapere Poi com'è il film Anzi Poi fammi sapere Che cosa è Alla fine Perché io ancora Non ho capito Devo andare a vedere Anch'io Non lo so Perché non ho ben capito Se devo vederlo Non devo vederlo Boh Non ho capito Che cosa dovrebbe essere Ancora Brava Lady Dragon Digglielo Digglielo Altro che poi Mi prende in giro E mi nasa la suora Quella del film horror Sì sì ok Mi prende in giro Poi sparisce Per andare al cinema Ok Anche qui Aggiungiamo poco poco Di bianco Perché tanto col bianco Andremo su un altro strato Commenti Chiameremo di senatore Apposta per Umberto Brava Marzia Mi piace Mi piace Mi piace L'idea Guardate che carini Come stanno venendo carini Mi piacciono un sacco Ora vedrete Con i prossimi strati Di resina Quanto cambierà Proprio La Tutto Tutto quanto Verrà troppo Troppo bello Ok Ancora un po' Di giallo Si blocca la live Eh Camilla Ho visto Si stava bloccando Un po' tutto Brava Laura Bravissima Grazie Laura Brava Meglio una live Di Nina Oggi Che un film Domani Ecco Ma Ok Si stavo usando Il pennello giusto Mio dio È venuto un attimo Nina Tu utilizzi mai La lente di grandimento Per fare i tuoi lavori No Laura Quasi mai Non mi piace Sembra un po' Tipo un complesso Quello di utilizzare La lente Anche a me si blocca Ma ora è tornata bene Giusto Intanto qui Aspettiamo due secondi Che si asciughi bene Il colore Andiamo a fare L'altro strato di resina Oddio adoro Questa Questa tecnica Cioè ragazzi Veramente Lo dico con tutto Il cuore Sto adorando Questa tecnica Da morire Ma proprio Da morire Ok Basta Basta resina Andiamo a Spennellarla In tutto Lo stampo Mi sa che anche qui Anche questa volta Ho messo troppa resina Mi sa di sì Oh guardate Come stanno prendendo Forma Stanno prendendo Tantissimo Forma Adesso Adoro Adoro No vabbè Adoro Questa tecnica È troppo bella Troppo 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 Bella Ciao Efra Ciao Tranquillo Non sei fin troppo In ritardo Perché anche se abbiamo iniziato Siamo tutti molto gasati Per i pesciolini Che stanno nascendo Orora Guardate E Marina Di solito Quando il fiume fa così È perché il panetto È molto vecchio O è stato magari Esposto tante volte A fonti di calore Poi freddo Poi calore Poi freddo Non può essere Guardate Guardate che carini No Dosare la quantità di resina Non è facile Infatti Spero che su questi Vada bene Però Non è per niente facile Se ne cade una goccia di più Rischiate di non poter continuare Perché poi la resina asciutta Non la puoi togliere Però guardate Guardate Oddio Li adoro Bene Andiamo a mettere Questi sotto la lampada E riprendiamo Quelli di prima Ok Ok Verranno delle basi Un po' gonfie Però vabbè Purtroppo la resina Vi si asciuga Facendo questa cosa Grazie Efrem Grazie mille Ecco tu queste cose Potresti farle Nei tuoi diorami Però Allora Questi sono quelli di prima Allora Continuiamo su questi Adesso Dobbiamo Passare di nuovo Ad un altro colore Che sarà Giallo Misto Ad un po' di bianco Sto preparando il colore Qui di lato Ecco forse lo vedete Un po' così Un po' più di bianco Magari Ok Per avere un giallino Proprio chiaro Chiaro Questi due Oh grazie Laura Si è abbastanza difficile Vuole tanta valorità Con il disegno Anche nel dipingerlo Sulla lesina Questa tecnica È difficile E quella Fatta bene È molto difficile Quello che sto facendo Io mi rendo conto Che anche un po' Non dico bozzato Perché ci sto mettendo Davvero tanto tanto amore Credetevi Però I pesci Quando sai disegnare Li sai disegnare Proprio bene E io ovviamente Non so farlo Sono qualcosa di Eccezionale Quindi si Li diventa molto difficile La tecnica Allora Intanto qui Dobbiamo andare a mettere Altre parti A questo pesciolino Con un po' Di questo giallino Bianco A questo E anche a quell'altro Sì Mi hai dato un'idea Per Marta Se era Venus Che pesca i pesciolini Durante il festival Oddio Sì Ok ho capito Bravo Fallo 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 Perché è troppo bello Non ti conviene Magari utilizzare Una siringa Per spargere la resina Erika Sì sarebbe comodo Se solo io Ne avessi una Soprattutto perché Ne ho un po' Il terrore Quindi Non lo so Se utilizzarla Mi farebbe sentir male In live È probabile Molto molto probabile Però Non ne ho Magari Me ne procurerò Una E proverò Indifferita In modo che Se mi sento male Non mi sento male In live Però provo Nina Qual è la resina Che costa di meno Oddio Marina Sai che non so Risponderti Non lo so Non lo so Qual è quella Che costa di meno Io ti consiglio Di puntare Magari Gli sconti Che ci sono In un dato periodo Online Piuttosto a quale Che costa di meno Perché ti giuro Che non so Non Non mi viene in mente Proprio Che è resina Dirti Altrimenti Perché non Non sono mai Andata molto A vedere i prezzi Delle varie Tendo ad acquistare Quella che mi serve Quella che so Che mi piace Quindi Non lo so Davvero Non lo so Allora Aggiungiamo Un po' di bianco Che ci servirà Da luce Tanta Tanta luce Guardate Come stanno venendo Che ne dite Oddio ragazzi Scusatemi C'ho tipo La gola Così oggi Mi fai venire Famenina Voglia di sushi Oddio No Non parliamo Di sushi Che mi viene Voglia di sushi Non provare Che ho provato io Lo vino Nesce dalla siringa Ah Sì Oddio Non lo sapevo Va bene Efre Ma anzi Fammelo vedere Che sono curiosa Tu sei bravissimo Ti uscirà bellissimo Oh Marina Ma che cosa è dolce Ok Allora Bene Io direi Fatemelo guardare Un attimino Oddio Ma visto da vicino Sembra troppo carino Guardate Riuscite a percepire Quel senso di tridimensionalità Già adesso Un pochino Cioè è vero Guardate davanti questo Oddio Guardatelo davanti No vabbè ragazzi Questa cosa è una figata Pazzesca Adoro Guardatelo No vabbè Ah prima che ci dimentichiamo Gli occhietti Gli occhietti si fanno In questo strato Perché Altrimenti Poi vengono Troppo su Quindi Due macchioline Che escono In fuori Di resina Perché gli occhietti De pesci Sono quasi sempre Molto pallozza Da quello che ho visto Almeno anche fare Quindi Due pallozine Di resina nera Grazie La pancetta Del pesce Se si vede La panzotta Sembrano veri Oddio Grazie 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 Guardatelo Cioè ragazzi Con gli occhi Ancora di più Guardatelo Sembra tridimensionale No vabbè Ragazzi Io impazzisco Oddio Vabbè Mi piace un sacco Puoi avere voi Qua con me Che create E qualcosa Sempre di troppo bello E quindi sono felicissima Bene Allora Grazie Marina Nel verso che utilizzi Del cameo E quello coperto A contatto con lo stampo No no Laura È quello che guardi Tu adesso Questi camei Saranno Forse gli unici camei Al mondo Che userò Nel verso Non coperto Perché ovviamente Non si potrebbe fare Poi andrò magari A dipingere Decolare La base intorno Per renderla carina Da questo lato Farò un po' di dooming Per renderla piatta Però è questo Il lato che si vede E no Appunto No Laura Non ragiono Al contrario Perché non ne sarei capace È proprio quello il punto Grazie Neves Allora Ho il singhiozzo Ok Un altro po' di resina Su questi bellessimi Pescioloni Comunque questi stampi Doppio fondo Sono questi Me ne ricordo DGA Per fare questa tecnica Se volete farla Su delle basi cameo Sono perfetti Perché Essendo doppio fondo Sono quelli più Più alti Allora Mettiamo Ok Basta 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 Lina Basta Sto sporcando Il mondo intero Di resina UV Sappiatelo Ma proprio Il mondo intero Sto sporcando Ok Stante Quindi Potete fare Potete fare Ragazzi 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 è troppo Troppo bello Guardate qua È troppo bella Questa tecnica Veramente Troppo 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 Bella Ok Mettiamoli Comunque sotto La lampada UV Sì esatto Laura La cosa bella Di questa tecnica È che Ad ogni strato Sembrano Ancora più reali Dove compri Gli stampi Marina Quelli che sto usando Adesso Sono di Gia Creation I fiori Penso siano più Diffici Eh ma sì Vabbè Penso anch'io Perché c'è Fiori sono parecchio Difficili Però Per chi è bravo Magari a fare Quelle nail art Con i fiori Ecco Sarebbero perfetti Ok Andiamo su questi Che in realtà Voi state amando Gli altri Ma io sto amando Tanto anche questi La seguo anche io La ragazza dei polipi Ho visto che li vende A prezzi altissimi Tipo 250 Oddio sì però Devo essere sincera Ne valgono Aiuto Ne valgono Quei soldi Perché è veramente Qualcosa di eccezionale Allora poi scrivimi Il nome dell'artista Perché mi farebbe piacere Seguirla Che non ho capito Il nome dell'artista Non la conosco Però scrivimelo Perché mi farebbe Tanto piacere Sì Laura È vero Sarebbe bello Fare tipo Dei paesaggi Veri e propri Tronchi Poi su un altro strato I fiorillini Poi sull'altro strato Dopo altri fiori È vero Oddio sarebbe troppo bello Devo provare a fare tante cose Proverò a farlo con voi Promesso Allora Adesso Anche su questi pesciolini Dobbiamo iniziare Con le luci Quindi andiamo ancora Di giallo E bianco Un po' di giallino Sul panzotto Ok Forse qui ho aggiunto Un po' troppo giallo Ancora qui Una puntina Così di giallo Piccola piccola Sì sì Acrilici normali Normalissimi Ma perché più normali Di così Non si può Cioè solo la giotto Può accompagnare Che in realtà Gli acrilici giotto Tra l'altro A me non piacciono Per niente Ma proprio per niente Non sono buoni Secondo me giotto Come si crede Grazie Erika Sì Pansotto Sì Grazie Franco L'hashtag Pesciolino Pansotto Vincerà su tutti Bene Adesso Voglio provare A fare Delle mini Come si chiamano Mini squamette Al panzotto Del pesciolino Io ho visto Che lo fa Lo fanno Semplicemente Con il pennello Picchiettato Così Beh sì In effetti L'effetto È molto squamino Squamoso Squametto Squamino Squamoso Squametto No vabbè Adoro Adoro tantissimo Proviamo anche Su questo qua Troppo olore Però forse Oddio È bellissimo No vabbè Ragazzi Lo adoro Questi pesci Li adoro Anch'io Marzia Esistono dei quadretti Su più strati Il materiale di fondo Era uno specchio Poi mettevano Due strati di vetro In più Ah per fare Quelli grandi Interessante 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 Aspettate che ve lo alzo Un pochino Perché così Io riesco a vedere Ma cavolo Che mi si sta Asciugando Il colore acrilico Cioè Non sul Qua Ma direttamente Sul pennello Esatto Sì Lady Lady Gymnastic Esatto Efrem Sì Fanno Esattamente così E soprattutto Una volta Asciutti Non rendono Cioè Non so spiegarmi Sono quella classica marca Che oh mio dio La Giotto è la migliore del mondo Ma no Tipo no Non è vero Cose che ti dicono Quando sei piccolo Ok Posso pure capirlo Però No Alla fine Anzi Ho scoperto Crescendo Che la Giotto È soltanto La più economica Anzi Ok Facciamo un po' di Altre squamette Che sembrino un po' di luce Anche queste squamette Ok Eccoli qua E facciamo anche su questi qua Gli occhietti Ok Proviamo a fare degli occhietti Molto A pallozza Perché questi pesciolini Hanno gli occhi proprio Pallozessimi Ed è troppo bella la cosa Oh guardate questi occhi Ragazzi Li adoro Guardate Oh mio dio Oh mio dio Ma avete visto Sentito Anzi Mai Lina Così felice Quando Imparate E comunicare In nette Che quando mi sentite Così Vuol dire Che sono Veramente Tanto 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 Felice Guardate No Vabbè Ragazzi Li adoro Li adoro Tantissimo Guardate Sì Lui ha l'occhio Un po' troppo Verso l'alto Forse Ok Sì Sì Decisamente Qualcosa è successo Da queste parti Pallozza Sembrano i goldfish Potrebbe essere che sono loro Perché ancora non abbiamo ben capito il nome vero di questi pesci Quindi potrebbero essere loro Marzia Allora Questi dovrebbero essere asciutti Resine Questo stampo Con tante r Proviamo a mettercela Poca questa volta Perché questa base Sta per finire lo spazio Ma abbiamo anche quasi finito Faremo tante ninfea Poi mi direte voi cos'altro Secondo voi ci devo disegnare dentro Però Questa base Non ha molto spazio Grazie Laura Tra l'altro Laura Ora chiedo Quanto sei brava Perché Oltre a avere la tua creazione Che ho Che è bellissima Ma dopo aver visto l'ultima Che facesti Che vabbè Me ne sono innamorata Penso sempre A quanto tu sia timida E dico Ma questa ragazza È più brava di me E falla timida con me Ma non è possibile Non è possibile Ok Un momento così Sembra che stanno per uscire dall'acqua Grazie Marina Oddio Sentirvi dire queste cose Mi casa Al 50% In più Non suonava bene Però avete capito Vai Giada Tranquilla Pesciolotti Panzerotti Fa Mio voglio i panzerotti Ragazzi Meno male che ho mangiato Prima di fare questa live Tra l'altro Abbiamo mangiato prima Perché mi sono detta No Perché nelle live Mi fanno sempre venire fame E quindi ho fatto bene A mangiare prima Così non mi fate venire fame oggi Ma basta che non si parli di sushi Perché c'è sempre fame Per il sushi C'è sempre fame Per il sushi Hai in mente Che ci farei su queste basi? Beh Ovviamente Sì Erika Diciamo che Nella mia mente Prima di tutto Ci sono tante sirene Tante Tantissime Però ovviamente Vedremo Vedremo Oh guardate Sotto l'altro strato di resina Quanti sono belli Ok Prima che faccio danni Li vado a mettere Nella lampada Questa tecnica La vedi negli anni 90 Oh ha diritto Beh sì No bugia Sì Credo sia molto molto antica In effetti Come tecnica Ok Mettiamo questi Sotto la lampada E prendiamo E prendiamo Su questi Andiamo a fare Ora Fame Sushi Anikiri Mag Ragazzi Ma vi rendete conto Che stiamo disegnando Pesciolini E parlando di sushi Buono Ah Per favore Insomma Un po' di decenza Un po' di decenza Visto che queste Vogliono essere Delle carpe Quei Andiamo a fare Le macchiette Partendo Da L'arancione Picchiettandolo Così In vari punti Ecco Picchiettiamo L'arancione In vari punti Grazie Marina Oddio Grazie 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 Venga Sate da morire Ok Attenzione Anche Sull'altro Grazie Laura No Vabbè Ragazzi Vi giuro Che mi fate Ripanere Non dico Gasata Ma molto Di più Oggi Finirà Questa live E andrò Saltellando Per casa A dire Sempre Per ricordare Quando Invece Quella volta Siete stati Tutti Molto cattivi Con le mie Brutte Fogliorine Me lo ricordo Ancora Non lo dimenticherò Più Non lo dimenticherò Mai Così Facilmente Tutti voi Che avete Trattato Malissimo Le mie Foglioline Che c'era In quella Famosa live Le alghe Alghe Ma vedremo Se fare anche Alghe Perché mi sa Che avremmo dovuto Iniziarle a fare Al primo strato Le alghe Le ninfee Le faremo Sicuro Le ninfee Ci saranno Le ninfee Vanno fatte La prima parte Su questo strato E la seconda Sull'ultimo strato Da quanto tempo Usi la resina E ormai Sono passati Quest'anno Sono tre anni Mi sa che uso la resina Facci le bolle Le bolle Ok La prossima volta Faremo anche le bolle Devo Spratichirmi un po' Ma faremo anche le bolle Promesso Allora Parte arancione Poi un po' Di giallo Vicino Ok Un pochino Di giallo Oddio Spero così tanto Che poi vi piacciono Finita Tanto vabbè Le scopriremo insieme Cioè le toglieremo Totalmente Dallo stampo Insieme Queste basi Però spero Che poi alla fine Vi piaccia Il tutto Il misto fritto Come lo dobbiamo chiamare Grazie Abigail Grazie Grazie davvero Di cuore Faremo un pizza party Ok un giorno Faremo il pizza party Promesso E poi col nero La parte Sapete delle macchie Che hanno le coi Con il nero Ma questo nero No Io voglio capire Si è asciugato Così velocemente Per quale motivo Ok Qualche macchietta Poco poco Nera Ok guardatelo Che ne dite Oddio Puoi impratichirti Su fogli Ti accettato Senza sprecare Resina Ok Lo farò Promesso Perché I vostri consigli Sono sempre Preziosi per me Quindi Promesso Lo farò Perché voglio diventare Non dico brava Ma voglio che queste creazioni Vengano sempre meglio Grazie Lady Grazie Comunque questa tecnica È bellissima Cioè si potrebbero fare Tantissime cose Per rendere le basi Un po' più speciali Del solito Ottima idea È vero Laura Esatto E mi fa un sacco piacere Avervi dato Spero Spunto Per fare qualcosa di Sempre nuovo Con altre tecniche E Per ecco Per uscire un po' Dalla monotonia Degli ultimi tempi Quindi lo spero Lo spero tantissimo Perché Adoro davvero tanto Che Che sia così Cioè un po' come Se fossimo tutti amici Fossimo tutti qui No siamo tutti amici Però Stassimo tutti qui A creare insieme E a dirci Che A spronarci Nel fare cose belle E nuove Ecco Grazie Esther Grazie Grazie Non mi sto fritto È peggio del sushi Poveri pesci È vero È vero Laura Allora Prima di fare Uno strato di resina Andiamo a fare Le ninfie Perché Le ninfie Poi deve essere Su Più strati Anche quella Cioè non tantissimi Due strati almeno Perché deve rimanere Molto in rilievo Ovviamente La ninfie Sta sopra l'acqua Però Andiamola a fare Adesso La prima Sì Ma Veramente Ragazzi Perché io Spero che Dalla live Si veda Poi non so Magari Non so se la risoluzione È perfetta Però Vi posterò Non riesco a parlare Bene ogni tanto È un po' di foto Perché spero si capisca Proprio la tridimensionalità Che prende Perché veramente Non sembrano dipinti E spero Spero Devo trovare Delle ciotoline Carine Perché vorrei provarlo A fare in grande Per vedere Se riesco a fare Delle ciotole Da esposizione Cosa del genere Belle grandi Ci vedrai In modo che In modo che si asciughi In modo che si asciughi subito E tutto rimanga Lì dove deve essere Insomma Per non avere problemi Però Penso che poi farò Il dooming Cioè Quella cosa Che io non so ancora Se si pronuncia Dooming Però Spero viate capito Con la resina normale Per livellare un po' Tutta la base Perché come vedi Lo stampo Si è piegato Lo stesso Nonostante abbia fatto Lo strato Con l'altra resina La UV Asciugandosi Mi ha piegato Lo stampo E vabbè Quindi Così Ok Allora Prima ninfea Va bene Tanto la faremo Poi sull'altro strato Poi facciamone Tante altre Anche piccoline Oddio Ma vi faccio vedere Mettendo una ninfea Più vicino al pesciolino Come si vede Alla tridimensionalità Dovresti provare A fare il muso Di orecchietta Con questa tecnica Oddio Potrebbe essere La cosa più difficile Del mondo Ma anche la più bella Fare yume E orecchietta Così Oddio Sarebbe bellissimo Che poi è una tecnica Secondo me Queste tecniche Sono nate Come tecniche Di rilassamento Perché Io sono Ok adesso in live Con voi Sto leggendo i commenti Rispondendo Parlando Ma Nel farlo Vi giuro Che è qualcosa Di super rilassante È bellissimo Veramente Tanto tanto bello Può essere Secondo me Essendo una cosa Che ho visto Molto orientale Secondo me Può essere Che sia nata Come Tecnica Di rilassamento Visto che In quelle zone Si è un po' Sempre A pensare A come rilassarsi Da quanto tempo Cray E Marina Già da tanti anni A chi piace Gli onigiri A tutti Piazzano gli onigiri A chi non Piazzano gli onigiri Il musetto Mervidoso Di orecchietta Di oggi Lo strapazzate Ancora un po' Tutta per voi Tutta Tutta Per voi Tanto gli dico D'orecchietta Dico Guarda che Se ti beccano Tutti i ninetti Ti tolgono le guance Infatti una ragazza Mi ha scritto Oddio ti immagini Portare orecchietta Miniature Italia Sarebbe bellissimo Però Voi non avete idea Di quello Cioè mi cacciano Ragazzi mi cacciano Io ve lo dico Mi cacciano A parte che Due sono le cose O me la rubano prima Perché è troppo morbidosa Oppure mi cacciano Con tutta orecchietta Ok Qua c'è L'altra Ninfia Ok Secondo voi Ne metto un'altra Qua di ninfia O lo lascio vuoto Questa parte Secondo voi Un'altra Ninfia Qui O lo lascio vuoto Che ne dite Aspetto voi Nel frattempo Il giallo Sulla ninfia Sì un'altra Ok Quindi ne facciamo Un'altra Ok Mettiamo Il giallo Anche un po' su Una piccina Ok Una piccola Piccola Ok Sì Sassi Li metterò Poi dopo Efra Me li farò Proprio Sopra E forse anche Di lato Per completare Il tutto Però la prossima Volta cercherò Di lavorare Anche con la parte Sotto Sotto Della resina Colorata Di celeste Con dei tanti Sassolini Dentro Perché ho visto Una creazione Fatta con questa Tecnica Che aveva Tanti sassolini Sotto Credo fosse Una collana Forse Non so di chi Era Era scritto Tutto in giapponese O in coreano Lo so Che costo Che lingua Fosse Quindi Non ho idea Però Sì Sarebbe Davvero Troppo Troppo Bello Allora Poi Il giallo Da sopra Che fa un po' Di sfumatura Con il verde E ci sta Benissimo Che è un po' Di luce Nel frattempo Di tutto Ciò Gli altri Pesciolini Stanno Sotto La lampada Da non so Più Quanti Anni Dove Compri Gli stampi Allora I miei stampi Li compro Sempre da Gecreation E Freak Emporium E a volte Se trovo Qualcosa Di carino Anche dalle bimbi Dipende Perché Spesso le bimbi Tra l'altro Anche adesso La sezione Gli stampi Di Gea Quindi Di solito Da Gea E da Freak Emporium Ok Guardate La prima parte Delle ninfee E questa Sull'ultimo strato Si fanno le venature Della ninfee Con del marroncino Che ci creeremo Tra l'altro Il nero si è asciugato Non so perché Ok Allora Aspettiamo che si asciughi Un pochino Mettiamoci la resina Ciao Anastasia Ok Dovrebbero essere asciutti Guardate Guardate Aspettate Guardate che bello Guardate che bella Questa ninfea Qui Perché il pesciolino Si vede più sotto Cioè Mamma mia Non fare pesce Abrustolito È vero Si si Abrustoliscono Abruscoli Oddio Che ho detto Ok Va bene Faccio finta Di non aver detto niente Andiamo a mettere Altra resina Ok Stavo per usare Il pennello Sbagliato Andiamo a stendere Questa resina Allora Vediamo un po' Siamo quasi al termine Di tutte e due le basi Ci abbiamo messo tantissimo Però io spero tanto Tutta me stessa Che la live così vi piaccia Perché sono Veramente Vi giuro Troppo 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 Felice Di come Siano venute con voi In live Pensavo sarebbero venute male Magari Perché la live Le prime volte Le ansie Timori Però no Mi piacciono veramente Tanto 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 Ok Aspettate Che controllo Che la resina Stia andando ovunque Ok A noi piacciono Le tue creazioni Da morire Ma soprattutto Stare in tua compagnia Grazie Love Le angi Grazie di cuore Davvero Con tutto 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 il cuore Ok Questo strato È fatto Ma ogni Quanto Fai la live Anastasia Ogni Giovedì Alle ore 21 C'è la live Ok Vado a mettere nel forno V questa Oddio ragazzi Oddio Lo adoro Lo adoro Grazie Marzia Grazie Marina Ok Mettiamolo di nuovo Sotto la lampada V Riprendiamo E come si chiamano Vediamo se avete Imparato Qual è l'hashtag Giusto per chiamare Questi pesciolini Voglio vedere Se siete stati Tutti attenti Su su Vediamo Hi consi No perché ho parlato In inglese Ha scritto in italiano La ragazza No vabbè ragazzi Sto fusa Sto fusa Come si chiamano Questi pesciolini Grazie Laura Un altro Un po' di Bianco Giusto un pochino Per creare Un po' di Ancora di spessore Panzotti Brava Si chiamano panzotti Grazie Anastasia Grazie Grazie di cuore Bravissima Si chiamano Pesci panzotti Vedete che ha capito Allora siete bravi A riconoscere Un'ora in poi Adesso tipo Quando vedrete Questi pesci In Non lo so Magari siete State facendo una ricerca Qualcosa di Importante Oh guarda Un pesce panzotto Tutta colpa mia Tipo ok Allora Facciamo le ninfie Anche in questa E Ne facciamo Una grande Qui Ok Ne facciamo Una grande Grande Qui Pansotti Esatto Si Ne abbiamo rinominato Pansotti Perché Visto che si è entrato in live Da poco Non so se nuotiamo La panzotta E quindi sono Pesci panzotti I famosissimi Pesci panzotti Ragazzi Chi non ha mai visto Un pesce panzotto Cioè Scusatemi Mi sembra Ovvio Pesci panzotti Sono i pesci Più famosi Del mondo Quando le persone Lo vedono Dico Oh guarda Un pesce panzotto Proprio quello lì Esatto Esatto Pesce panzotto Forever Ciao Azzurra Oh Mi stai Mi si è mancato Un sacco In effetti Mancavi tu Mancavi Azzurra In live Invece di Cantare Gloria Faremo Azzurra Manchi Nella live Io sono Stonata Quindi non abbiate Paura Tappate le orecchie Pesce panzotto Ester Allora Scrivilo E dimmi cosa ti esce Secondo me Qualcuno La foto di questi pesci Ce l'ha infilata I negozi di animali Ne sono pieni Ma infatti Voi andate in un negozio Di animali E dite Salve Vorrei un pesce panzotto Se non vi capisco Non uscite Perché probabilmente Non sono del settore Mi sembra pure ovvio Se uno non sa Riconoscere Un pesce panzotto A prima vista Mi sembra giusto Ok Allora Giallo Di nuovo Per sfumare Stai dipingendo Sì azzurra Stiamo provando La tecnica 3D paint Nella resina Ed è qualcosa Di eccezionale Perché abbiamo creato Dei pesciolini E ora te li faccio vedere Visto che tu non sei Stata in live Da subito E dimmi Secondo te Se sembrano Tridimensionali I pesciolini All'interno Ok ecco Dimmi Cosa ne pensi Guarda Oddio ragazzi Io più li guardo Più me ne innamoro Cioè Se mi sembra di averli adottati Tipo Non lo so Come fame Non potete mangiare I pesciolini Vietato Vietato mangiare I pesciolini Panzotti Panzerotti Sì Pesciolini Panzotti No Da quanto tempo Sei su youtube Io ho il profilo youtube Da lontano 2009 L'hanno in cui è stato creato Tra l'altro Però I video veri e propri Sono nati Credo Due anni No Sì Quasi tre anni fa I video veri e propri Prima o poi Faremo i video Il video in cui reagisco Ai miei vecchi video Su youtube Per vedere quanto sono cambiata La mia voce È qualcosa di assurdamente cambiato Grazie marzia Sono super 3d Oddio laura Grazie 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 Lo sapete che Quello che voi pensate Quello che voi dite Per me È veramente È oro Oro puro Quindi Oh mio dio Oddio L'adoro ragazzi Gli adoro da morire Li sto adorando tantissimo Tanto 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 Allora Facciamo l'ultimo strato di resina Anche qui Per poi fare Le striature Che hanno Le ninfie E ci siamo Io abito al parco Leonardo Dove c'è Moby Dick Ci sono dei pesci piccoli Piccoli Anche loro panzotti Hanno delle cose bellissime Ne ho visto uno viola Ah oddio Sì Erika Uno viola Con la sfumatura blu Io l'ho visto In un negozio A Roma Non mi ricordo Quando L'ultima volta Che sono stata a Roma Per Per Sparkly E Freak Era sì E Mi sono innamorata Di quel pesce Cioè avevo fatto una stories Non so chi l'aveva vista Perché si muoveva E cambiava colore Cioè Sembrava uno Dei nostri pigmenti Faresti questo video Della reazione In live Oddio In live Ah ok Così Grazie Porta altre live Sulle creazioni Come queste in 3D Oh certo Se vi piacciono E volete vederne altre Certo che ve ne faccio altre Promesso Magari Ecco La prossima volta Possiamo provarne A fare una grande Che ne dite Cioè un pesce gigante Tipo Un pesce panzotto Grosso In una di quelle ciotoline Non lo so Che ne dite Vi potrebbe piacere Vedere una cosa Del genere in grande Che ne dite Nina è vero Che è cambiata la tua voce Mi sono imbattuta In un video tuo vecchio Non so quanto ho pensato Eh Laura I pesci vita Laura Laura Sì Sì Ma ti giuro Che è una cosa Che noto anche io Ed è Allora Un po' È cambiato il telefono Quindi magari Io quando ho iniziato A filmare la prima volta Avevo tipo Il Samsung S2 Ragazzi L'S2 E l'S Cioè Si può capire Già da quello Ovviamente il microfono Vabbè Quello che La qualità video Magari Anche YouTube stesso Modificava un po' Ok Poi io Era un po' Timorosa Nel parlare Ciao Desiree Ero un po' Timorosa Nel parlare Un po' Questo Un po' Quello Poi vabbè Ero anche molto piccola Nei primi video Rispetto ad adesso Però La voce è cambiata Veramente tanto 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 Ho imparato anche Tanto a dare più Espressione alla mia voce Comunque metto sotto La lampada V questo A dare più Sì più Movimento ed espressione Alla voce Cosa che prima Anche nel parlare Normalmente con le persone Non sapevo fare Invece adesso Mi piace Dar tono Ed espressione Alla voce Perché Con questa Tipologia di lavoro Ovviamente su youtube Sì gesticolo Ma non mi vedete Quindi se parlassi Tipo Ciao ragazzi Oggi scopriamo E realizziamo Insieme Questi pesciolini Cioè sarebbe Sarebbe veramente Brutto Quindi ho imparato Un po' A modo mio A dar tono Alla voce Che tra l'altro Ormai fa parte di me Mi sento A mio agio Proprio Sì azzurro È super interessante Guarda questi Guarda questi Oddio Guardate Guardate i miei pesci Panzotti Vedete la base Che tipo sta uscendo Dallo stampo Perché continua A crescere Verso l'alto Guardate Oddio Oddio Adoro Ragazzi Adoro Oddio Adoro tantissimo Adoro 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 Per esempio Io adesso Non sopporto Una specie di moda Credo sia del momento Perché vedo tantissimi Su youtube Fare così Dell'imitare la voce Di qualcuno Marina Ne ho 23 Di imitare la voce Di qualcuno Tipo io sento persone Imitare la voce Di Yoriko Tiger La sua intonazione Di voce Le vocine Che lei fa Le parole Che lei usa E non capisco Questa cosa Perché noto Che spesso Su youtube Si perde quasi Identità Attraverso la voce Vuoi perché magari Segui tanto una persona E quindi sei Tendenzialmente Diciamo Nel parlare Come quella persona E lo capisco Però È veramente strano Sentire questa cosa Io non so Se ci fate caso Anche voi Quante persone Parlano Se seguite Yoriko Tiger Quante persone Parlano Effettivamente Come Yoriko Ma proprio Tante 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 Oh Azzurra Chi Nina 23 anni Sì ragazzi Lo so Molte di voi Potrebbero dire Nina Sei piccola Sì Abbastanza Grazie Marina Comunque Allora Qui Adesso Facciamo Dobbiamo Dobbiamo creare Un po' Di altro Colore Con un po' Di nero E il giallo Facciamo Una specie Di marroncino Che non verrà mai Perché il colore Oddio Ho fatto danni 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 Vabbè dai Va bene lo stesso Va benissimo Credo Credo che vada bene Lo stesso Un verde molto scuro Va bene Siamo Coetane Oh Oddio Azzurra Voglio vedere Nina Ricordati Che stai Nei gloriosi 23 Sì A gennaio Il mio Compleanno È a gennaio Una creaturina Bellissima Voglio vedere Azzurra Voglio vedere Allora Ecco Ora dobbiamo fare Soltanto i filamenti Così Così si vedranno Un po' Più su Ecco Guardate che belli Ora mi sento vecchia Sai ma no Calcolate che È una cosa che dico sempre Per me l'età È un numero Ma ragazzi Non è una fase fatta Per me l'età È veramente un numero Io non mi sento Lo dico davvero Io non mi sento Una ragazza di 23 anni A volte Mi sento Una ragazza di 30 anni O sogno Di avere 30 anni O anche di più Non mi sento Nei miei 23 anni Non mi vestono Perché i miei cotai I quei tani A 23 anni Non sono come me Assolutamente E Ho avuto modo Ovviamente Di conoscermi tanti E no Credetemi Per me l'età È solo un numero Potete avere 20 anni 10 anni 80 anni Se mi trovo bene Con quella persona È a posto Cioè è a posto Infatti calcolate Per esempio Che io e Umberto Ci passiamo tantissimo Umberto è comunque Molto più grande Di me Ma io e Umberto Parliamo come se Tra di loro Ci fosse Di vario di età Proprio non Non esiste No Trovo che l'età Sia veramente qualcosa Di puramente Commerciale Cioè il tuo compleanno Ok ti farò il regalo Basta L'età non Per dire Quando invecchi Ok Vabbè Sto invecchiando Che bello E vabbè Fa niente Si invecchia Però basta Giusto Nina io ne ho 40 Marzia ma che fa Ma ne ho 40 Stiamo benissimo Tutti insieme Cioè che cosa cambia Ok Ancora un po' Di filamenti verdi Qui Ecco qua Questa è la ninfia Poi qui manca L'ultimo strato Guardate i pesciolini Come sono tridimensionali Se voi vi sentite vecchi Allora io ho l'età Di Motosalem Oddio Allora Questo qui È l'ultimo strato Dipinto È l'ultimo strato Perché abbiamo Singhiozzo Fatto Le venature Della ninfea Che ne dite Mi piace Come è venuto Mi piace da morire Veramente da morire Tantissimo Tanto 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 Veramente Tanto Nieves Ok Allora Qui ci va Poi l'ultimo strato Di resina Che mettiamo subito Così Poi possiamo andare A finire L'altro Ok Qui vado abbondante Con la resina Perché tanto Abbiamo finito Ok Vediamo Un pochino E oddio Qual è il pennello Della resina È questo Sì è questo Stendiamolo Comunque bene Col pennello Che è più veloce Poi penso Che andrò A riempirla Come ho detto Prima Anche con la normale Resina Però non Ne sono sicura Intanto L'ultimo strato Lo facciamo Asciugare Ok Sotto la lampada V E andiamo a prendere Quello di prima A cui mancano Quindi soltanto Le Le striature Della Della Nizia E poi Pescio Pagiotto È pronto Anch'io Dai 19 Ho cambiato Modo di vedere Vivere la mia vita Rispetto alle mie amiche Cotane E infatti Tante amicizie Le ho perse Perché non accettano Sto cambiamento E me Erika Purtroppo anch'io Ciao Claudia Purtroppo Nel senso Che Non Non Trovarmi Con Molti Dei miei coetanei Con cui magari Prima mi ci trovavo Perché comunque C'è stato un periodo In cui sono cresciuta Anch'io E quindi un periodo In cui effettivamente Ero molto piccola Anche mentalmente Come giusto che sia Però Con tante persone Non riesco più A sentirmi Non riesco ad avere Dialoghi Parlare Perché sostanzialmente So che Potrebbe sembrare Cattivo Ma Tra me e me Penso Oh mio Dio Che noia Ma Non quella noia Di Non mi interessa Quella noia di Oh mio Dio Sta facendo Veramente Questo discorso Mentre Al contrario Magari Con persone Di 38 40 30 anni Mi ritrovo Ad essere d'accordo Su tante cose Mi ritrovo Su una stessa linea Di Argomenti Non lo so Non so Da cosa Nasce tutto questo Però Così E' semplicemente Così Anche qui Ultimo strato Di rinfio È fatto Ciao Luisa Grazie 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 Le scopriamo E così Poi ci possiamo Salutare Visto che abbiamo Finito E sono Veramente Wow Troppa resina E non esageriamo E sono veramente Troppo 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 Felice Di aver fatto Queste creazioni Con voi Quindi Finiamo Questa qui E le scopriamo Che poi c'è poco Da scoprire Perché è questo Che si vede Però Sarà più bello Da vedere Oddio Sta uscendo Da fuori C'è troppa resina Per questa base Oddio Ok Perfetto Secondo me Dipende molto Anche dal fatto Che già convivi È azzurra Anche Ho pensato Anche a questo Tante volte Sì Oddio Aspettate Che qua La base di prima Sta già uscendo Praticamente Dallo stampo Del tutto Cioè Sta venendo via Da sola Ora bene Umberto è andato A vedere un film Al cinema Quello di Lady Gaga Ok Siete pronti Andiamo a togliere Questo Che poi va Fatto stare Un pochino Sotto la lampada UV Per asciugare bene I lati I bordi Che ovviamente Con questi stampi Non asciugano bene Andiamo a vedere Com'è Senza lo stampo Dietro Che lo colora Ok Guardatelo Guardatelo Ragazzi Guardatelo È un pochino Appiccicoso In alcuni punti Va messo ancora Un po' Nella lampada Vedete che rimane Bombata la resina UV Ecco Soltanto per questa cosa Secondo me Sarebbe meglio Lavorare con la resina Normale Però Diciamo che Lavorerò Per far sì Che ci siano Dei rametti Pietroline In modo che Diventi di nuovo Piatta Ecco Se capite Quello che voglio dire Ma Ragazzi Cioè Allora A parte il fatto Che mi sto sporcando Con tutto Guardiamoli per bene Lasciate perdere i lati Un po' bruttini E li aggiusto Ma Guardiamoli per bene Cioè Guardate questo Oddio Guardateli Cioè Oddio Anche vestite dietro Hanno un perché Però vabbè Ovviamente dietro Sono così Invece questa volta Useremo gli stampi Al contrario Guardate Guardate Oddio Un portasapone È vero Ari È vero È vero Oddio Ok Prendiamoci qualche minuto Per guardarlo Mentre l'altro si asciuga Quindi guardiamolo Guardiamolo insieme Ecco Guardate lo spessore Tipo delle pinnette Che fanno questi giochi di luce Uno saprà l'altro Grazie Ragazzi Grazie Guardate Quanto è bella Questa ninfea Che sembra essere sopra Ma In realtà No Cioè È sopra Ma il pesciolino Sembra molto più Tridimensionale No ragazzi Penso che farò Tante tante basi Con questa tecnica Ma veramente Tante tante E Spero tanto Che vi piaccia Perché vorrei portarne Proprio Per le creazioni Anche Anche a Miniature Italia Ciao Claudia Grazie per essere passata Guardate Guardate gli occhietti Di questo No vabbè Ragazzi Li adoro Questa tra l'altro Guardate Io non lo so Ditemi voi Ma Credo che dalla prova Che ho fatto ieri Sono già migliorata Un pochino Cioè Sembrano già più Realistici Realistici E tridimensionali Vero Che dalla prova Che ho fatto ieri Mi sembra un po' Sia meglio Giusto Che ne dite Poi penso che Il fior di loto Lo voglio fare in fimo Per farlo tipo Che esce da fuori Proprio Quindi Non sarà dipinto Però Ok Andiamo a prendere l'altro Vediamo se si è asciugato Asciugato Ok Sì 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 Anche questo Sta uscendo dallo stampo Tra l'altro Cioè Yeah Bene Andiamo A vedere anche questo Com'è Ok Vediamolo Oddio Ragazzi Pesce panzotto Oddio di qua è bagnatissima La resina Pesce panzotto Tutta la vita Guardate Il pesce panzotto È la cosa più bella Dell'universo Ecco Guardate Com'è venuta questa Mamma che odio Perché la resina Vi fa questa cosa Vabbè Faremo Ci lavorerò Appunto Con i sassolini Per farla diventare Non vi preoccupate Però Ragazzi Pesce panzotto Tutta la vita Grazie Laura Sì infatti Mi piace Perché comunque Si vedono anche Da questo lato È veramente bellissimo Guardate No vabbè 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 Pesce panzotto Come stile di vita Esatto Che proprio Mi somiglia parecchio Il pesce panzotto Piccolo Basso Chiatto Con la panzotta Cioè sta benissimo Guardate i suoi occhietti Cioè Vi sta guardando Per dirvi Vi è piaciuta La live Vi è piaciuta Ecco Ciao Ari Grazie Grazie ragazzi Grazie di cuore Guardiamo meglio Questo panzottino Qui Panzottino Panzottino Beh dai Sembrano essere Molto Molto tridimensionali Mi piace veramente Tanto 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 Davvero Davvero Tanto Bene Ninetti Miei cari Io come al solito Non so come ringraziarvi Per essere stati con me Per questa durata di live Che è durata 89 minuti Ragazzi 89 minuti Capito 89 minuti E sono veramente contentissima E sono veramente contentissima Perché grazie a voi Riesco a gasarmi Nel creare le cose Ed è sempre bellissimo Quindi Niente Spero tanto che vi sia piaciuta la live Fatemi sapere se volete vedere Poi le creazioncine Sopra queste creazioncine E se volete altre live In cui proviamo La 3D paint Nella resina Che Secondo me È molto molto interessante Come tecnica Grazie Simona Grazie Quindi Grazie per essere rimasti Con me fino alla fine Io vi mando un Bacione Gingantesco Ninetti Buonanotte a tutti E ci vediamo Presto presto E Vedete che Nel mio profilo Youtube Vi ho inserito un nuovo banner Con Il giorno in cui escono i video E il giorno della live Così sapete sempre Quando c'è un nuovo video E ve lo dirò presto Domani mattina Penso anche nelle stories Ciao Annetti Buonanotte Grazie per essere stati con me Ciao